arrivata all'ordinanza di regione lombardia diventa ufficiale anche ciò che il parco del ticino aveva già previsto un mese fa anche la biatense come la provincia di pavia entra nelle zone di restrizione per provare a limitare la diffusione della peste su ina la nuova ordinanza quindi include abbiate grasso e i comuni vicini in quelli dove è necessario adottare efficaci misure di biosicurezza anche per le attività all'aperto chiaramente questa ordinanza non fa altro che andare a specificare ulteriormente le misure di prevenzione e di controllo di questa problematica di fatto per quanto riguarda il parco del ticino l'area è già stata definita con i precedenti provvedimenti stiamo parlando della zona di restrizione 2 per tutti i comuni del parco in provincia di pavia oltre a 5 comuni della provincia di milano motta visconti ozzero morimondo abbiate grasso quindi di fatto tutta l'area diciamo centro sud del parco è caratterizzata da questo problema l'ordinanza fa anche luce su come comportarsi in particolari attività organizzate ad esempio dallo stesso parco del ticino all'interno della riserva naturalistica la cosa interessante di questa ordinanza è che cerca anche di semplificare l'accesso all'informazione da parte dei cittadini in quanto regione lombardia ha definito una nuova pagina sul portale regionale in cui vengono costantemente aggiornate le informazioni le notizie a cui tutti possono far riferimento per capire come comportarsi quindi in una sezione specifica di questo sito è possibile per chi deve andare a funghi per chi deve andare in bicicletta per chi deve andare a fare delle escursioni e per chi deve lavorare sul territorio trovare la propria categoria di riferimento e vedere quali sono le regole da rispettare ricordiamo sempre che il problema è quello di cercare di non diffondere il virus quindi non si tratta di rischio per la salute umana l'uomo non può essere contagiato direttamente dagli animali o comunque neanche dalle carni suine ma è un grande veicolo di diffusione della malattia grazie a tutti Grazie a tutti